ci sta male ma è un gioco che conviene da registrare è un gioco che conviene da registrare che cazzo porco cazzo oh, ha fatto giro a calarla vai dalla spada la madonna e mi è scatto lei che culo, ma è esplosivo corre ma scusa qualcosa lì doveva esplodere ma non è esplosivo allora scegli la lingua per i testi italiano italiano è uno splash allora è un po' qualcosa di così bello morire una piaga sta devastando queste terre ma l'albero della vita è ancora in piedi anche se per quanto la fine sta arrivando per il mondo nuovo le tribù sono divise in cerca di qualcuno abbastanza forte da unificarle o debellarle per sempre questa è una storia dall'inizio insolito quindi aspettiamoci un finale altrettanto stravagante ti do il benvenuto in bio mutant grazie impostazione mutasca in italiano ok dialogo automatici cos'è? scegli se fai proseguire di tenere senza intervento del ok modalità cos'è? dinamico ma mostra sempre non so poi vedo dimensione lag indicatori emissioni indicatori danni indicatori nemici cioè effetti fumettistici ma io lascio tutto quanto per mano attivata ruota con la visuale ok visuale ooooh si giocatori ok comandi attiva disattiva scazzare attivato il comando per scazzare ah no no ok meno rapid capitato non vuole per aprire il menù poi vedo perchè devo capire ancora il mio terzo smooth cos'è cosa sia musica parlato devo vedere i sottotitoli si ma voglio capire non c'è la grandezza del sottotitolo è così normale narratore regola quanto spesso i creatori parlano in modo incomprensibile eh si possono parlare come vogliono tanto video combinazione comandi salto x schivate cerchio alla dark source praticamente corpo a corpo quadrato spara ok scusa questo qui cos'è attiva il gancio corpo a corpo ah io già ti ho accessibilità completo completamente automatico no dialoghi automatici ok sottotitoli ok dimensioni sottotitoli po cioè non piccolo pochitto cazzo di pochitto cioè più piccolo ah madonna e metti medio così quello dei sottotitoli con sottotitoli ah per per evidenziare praticamente così sembra di starci fallato dopo secondo sottotitoli si a posto ok nuova partita devo mettere medio cazzo cazzo non c'è mento il fratellino reale 2 di 2 ok codifica il tuo dna cioè vitalità forza ottio santo che brutto oddio la madonna flip eh murgel ah scusa prima cosa è vero sono una generazza altro problema fan dei libri di la tua mutazione genetica conferito loro agilità e svertezza al costo di un intelletto sottosviluppato il dna sono una razza antropomorfa il dandon sono una razza antropomorfa meno sviluppato una variante di viva che compensa la mancanza di prestanza mentale con la forza fisica infatti c'è una testa un po' piccola il dna sono una razza antropomorfa stranamente sviluppata da i libri di rietti un DNA speciale che vi rende adatti tanto alle sfide fisiche quanto a quelle mentali c'è praticamente è un omm come si chiama è un 50 e 50 il haila penso sono una razza antropomorfa rigenerativa dei diurini in cui le ottenere genetiche hanno finito la loro forza e l'esistenza straordinaria oddio pure qua c'è c'è come cosa il effitto sono una razza nata per l'interetto evoluto il loro genio è direttamente interconnesso al potere del chi che amplifica a dismisura le loro abilità psioniche il murgel o murgel sono la definizione di razza idealizzata il loro lignaggio evolutivo ha seguito una direzione in cui forma e apparenza hanno prevalso sulla funzionalità quindi scusa cosa è che mi conviene fare allora questo c'è saluto e corazza cos'è che è questo? questo c'è un danno corpo a corpo poi questo ha vitalità e potere e energia e rigenerazione questo che cazzo c'è? c'è soltanto la corazza e questo qua invece c'è meno salute meno corazza più potere di chi ma sì ma io lascerei quello normale sinceramente ehm cioè non è neanche questo qua anche il cazzo qua ma non ho capito che cos'è cosa è metà più pistello metà gatto metà boh cioè non ho capito ma c'è tutti quanti le pinga sull'occhio buh questo cosa dice ancora razza e vitalità quasi quasi mi tengo questo ehm sì chiamo Laila scegli attributi inizialmente il tuo personaggio per uno spiegazione per il carriere degli effetti ciascuno attributo premi e si può definisci la tua struttura genetica ma scusi eh morco troia eh madonna che cazzo c'è cioè se è troppo intelligente troppo forzuto c'è questo posso mettere in mezzo di tutto? cioè a me non che cazzo no voglio voglio che sia bilanciato insomma parca miseria non posso cioè normale normale non riesco a metterlo più al centro ok sì sì normale non voglio niente di di che muta personaggio ma perché dovrei mutare un personaggio? ah vediamo un attimo vitalità attributo ecco quello lo sapevo salute totale saluto massimo corazza forza incredibile danno corpo a corpo che infliggi davvero danno corpo a corpo più alta più più danno corpo a corpo infliggerai ai tuoi nemici intelligenza non potere di chi ha che ho disposto la velocità di rigenerazione di chi e danno infatti con potere di psionici e mutazioni ehm potere dipende dalla quantità di danni che infliggi con potere di psionici e mutazioni l'energia di rigenerazione agilità velocità di movimento velocità di movimento vabbè sapevo già dipende ehm carisma dipende dalla tua abilità nel baratto e la tua capacità di persuadere gli altri personaggi vabbè baratto penso vendendo gli oggetti più più sconti più prezzi migliori fortuna vabbè non so colpi grigi trovate bottino allora lei è probabilità di bottino ok no no non c'è nel mare perché poi c'è di fare testa grossa di farà il corpo grossa testa piccola ma che no no c'è una resistenza genetica e non posso rimanere nel mezzo ah vedi il braccio di che fa no rimani tutto su 6 cioè sinceramente rimani così non voglio scegli lo stile della tua pelliccia cioè ah c'era uno ma perché ma perché non fatti scegliere proprio la questo mi piace scegli il colore principale eh vabbè capito eh qual è il colore ah quello un rossiccio va benissimo cioè non è che tra me se non c'è il nero come si fa quell'altro ah qua ok scegli il colore secondario qual è il colore secondario eh quello no si vabbè poi si no ma è bene normale comunque non tanto acceso non tanto scuro fai così va bene scegli una classe ah allora eh comando tiratore tiratore allora il tiratore è un abile è è un abile e astuta canaglia che ha abbracciato una vita al di fuori della legalità e della morale sociale e fanno l'istante se si ricarica all'istante il danno del tuo prossimo caricatore aumenta del 20% comando comando si fuciva assalto ma vediamo un po' il comando è addestrato come un agente delle forze speciali delitte solitamente vengono dispiegati in squadre di poche unità il grande attacchia a distanza mentre l'indice vi accende si bello questo gli psicoforzi diventano con poteri psionici e mutazioni solitamente sono diretti ai margini della società allora sintillo palla avremo il comando strecciato alla sintillo palla per attivarla scaglierai la palla verso cui sei rivolto mentre dice non hanno nemico colpito megamente la rigenerazione delle indici a chi aumenta del 20% sabotatore sabotatore ma io lo anche come si resta un sabotatore è un abilestrato però però sottocuvertuto tanto nei sopporti quanto nei luoghi più selvaggi doppia presa argentia argentia tecnica ambidestrismo corpo a corpo equipaggio a due differenti armi corpo a corpo e ha una zampa adesso perché dice le zampe per brandirle entrambe il costo dell'energia delle schivate ridotto del 20% si chiama ipergenetica senti nella cos'è il cecchino mi sa è brutto il vestito e si restano vivi alla protezione di una casa credono ciecamente nella loro organizzazione e nei loro dogmi la probabilità di questo aumenta di 10 sinceramente mi piace di più il commando anche se spero che il vestito poi lo puoi modificare perché scusa c'è il coltello vabbè lo psicofolle c'è il buttatore sapete che c'è quello il sentinello c'è solo solo il commando c'è solo questo e il coltello vabbè fai i commando mi piace sempre che c'è si si cominciamo si ecco iniziamo per spostarti in avanti usa l successivo trovate in giro usa r una creatura dal passato tormentato trascinata sotto riflettori di una storia già cominciata eccoci a un crocevia scegliere la propria strada è come trovarsi a un bivio puoi decidere di imboccarlo oppure smettere semplicemente di vivere ma scelgo la seconda no scusa ma e quindi allora scelgo il rosso dell'oscurità colore della forza e del potere l'energia primordiale che scorre attraverso tutte le cose scelgo il rosso dell'oscurità colore della forza e del potere scelgo il blu della luce colore della libertà e della lealtà a me come già come colori preferiti sono blu e nero se c'era il nero di qui era difficile allora quindi il blu già di suo ti presento sono la metà più pura e luminosa di te o per meglio dire la tua voce interiore un eco di equilibrio e un costante promemoria delle conseguenze delle tue azioni praticamente capito quindi non ho capito devo fare delle scelte sembra che tutta questa luce ti abbia offuscato la mente finirai per cambiare idea un giorno quindi ho le scelte da fare ok vabbè mi piace di più alla fine si raccoglie quello che si è seminato quindi sempre voglio seguire i propri istinti non puoi resistere alla tua stessa natura quindi penso che ci sarà anche un finale buono o un finale negativo la tua natura non lo so e io che pensavo che stessimo seguendo la selezione naturale la sopravvivenza del più forte tutte quelle storie se non è istinto quello la selezione naturale è una questione di evoluzione e di progresso con la giusta quantità di luce l'oscurità non potrà che sparire ah qua ti sbagli non c'è luce senza scurità e non c'è scurità senza luce ecco un po schiaffone quindi quindi mo chi devo far qua c'ho due a destra è la strada maestra e a sinistra cosa cosa c'è a sinistra la sinistra non è sempre la scelta più sinistra eeeh ormai mi sono imboccato qui cos'è qui che cazzo mi scuole usate l'arma no buon mano ma moto storie di morte e di corpi abbandonati ci ricordano che siamo alla merce della natura e delle creature che si nutrono dei propri simili la camera di mangio carne nuova missione sbloccare ricordi la bestia che distrusse la tua famiglia o hai forse scelto di dimenticare hai voltato le spalle al nostro mondo perdendoti nel tuo intanto la forza del predatore aumentava o che schivata e fino a lì ci saranno arrivati sto ok quindi affronta il magico premite bello è diventato praticamente cosa ruota della scigna spazio scriva almeno scatto della pantera ha capito parata alle 1 parato mosso della libera cerchio e fornato si trova ma fatto ma fatto più a cura del coniglio x e quadrati rottabilità che forse fosse questa la userò molto volentieri pure luogo nel momento per porre fine a questa storia a bocca e mi ha fatto riprendere praticamente nella sezione dove ha fatto vedere la intro il capigamento ci sarà fuggire sopravvivere per combattere un altro giorno la scelta migliore speriamo che quel giorno non ti colgo di ripresa che è successo? ah l'esplosione l'esplosione! basta boom capa di retta possono andare a vedere cosa è successo di lì? cos'è? insetto scatolo Morph Bound danno, fucile auto ma allora sono questo ma che cazzo c'è qui? questi che sono? ah io li li distribuisco il predatore non è l'unica minaccia, la fine dei tempi ha causato una mutazione nella fauna e l'inizio dell'agonia dell'albero della vita oh guard ok 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 venimo, oh cazzo, chi è che mi attaccava il primo? e non sono usciti in altri? eh, sono abituato a coso ah beh, c'è tipo come se fosse il tencio di ragno, ovviamente non coda, non coda e muore, eh io c'è morto po' che c'è uno qui? eh, volevo... ma dice che il equipaggiamento si può cambiare poi è un'altra cosa di più potente io ho schivato ma... ma se lui può non resterà in piedi a lungo non è va buono vai, alto io gli sto lontano, eh mi devo agganciarlo ok ah, qui la porta ah, mi ricarica questo cartone, cos'è che fa sto coso? niente stavo ne fissuto da un po' di guida allora qui cos'è ha fatto fatto? quel tempo affittatore, ad esempio c'è solo di... classi di presa a luce ma lo posso equipaggiare? l'hai equipaggiato? non lo vedo non lo vedo guarda, vediamo un po' dammi un'attivazione di coraggio pistola che ha detto di fuori no, mi c'è da me la piccola eh, sì, ma credo di amare ok, posso sciere tra la pistola e... e l'altro coso aspetta, aspetta, c'è un po' di... così prometto, no? ho visto, adesso c'è ancora quando corre l'affreddazione metistica proprio qui cosa c'è? c'è un po' di... ma mi sa che è ancora una specie di mini-potore quindi... eh, ma mi sei incastrato qua, siccome è qui è un po' di... è un po' di... oh, che miseria... oh, ok interagisci ok, riesco al bunker 101 andiamo andiamo oh, c'è un qualcosa interagisci ma noto? allora, modulo elettrico eh, radità 40 raro eh, elettrico fulminante eh, 7 qualità decente quattro eh, accessori per arma mi ha trovato una gestione speciale aggiungere la tua arma a distanza e infliggire danni aggiuntivi di un tipo speciale finché non finirà le munizioni si segui con cui la fonte se ritengo alcuni uffici sono visti ignorabili a determinati effetti eh sì, questo sì questo... no, no, accogliamolo ma non usiamolo no, no, non lo voglio usare, è inutile su, c'è la siringa penso, l'adrenalina un po' a cosa per curarsi non provo, ma sta messo ah no, niente, se io sono consumabili ok eh, hai trovato una scottide medicinali questi sacchi contengono oggetti in grado di curarti dopo solito non si rigenerà tra i metodi di combattimento dovresti usare degli oggetti consumabili o trovare metodi alternativi per curarti ma quindi scusa, non durante il combattimento si rigenerà automaticamente interagisci eh, salutop una brinda vabbè ecco, ma... sì, lo so ma si stoppa il gioco, poi? facendo così o va avanti? boh, devo vedere un pochettino interagisci c'è un chest c'è un bagno c'è il bc nel gabinetto c'è tutto 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 ma ovviamente è open world però comunque sono riparato la morte oleosa e dappertutto per molti presagio di morte cazzo l'obiettivo sono riusciti ad adattarsi al mondo chi cazzo è quello chi cazzo è quello che conosce mangancia quello un cavolo e perché vuoi caricarla e che cerchi per cazzo non è sparito così veloce ma eccolo eh ma preso ah ma che cazzo sto finendo non pensavo che è similissimo anche avevo visto che c'era letterale sinceramente vabbè anche una volta ci sta ci sta sempre un gioco nuovo prima volta che ci gioco non so ancora come funziona e ogni motivo fa chiaramente infinito praticamente ok sempre da qui posso mirare con la morte oleosa e dappertutto c'è quello è andato lì un presagio di cazzo non ho visto altri però sono riusciti ad adattarsi al nuovo ambiente a cambiare insieme ah veramente ricca di sorpresi ah cioè un marone ma preso tracca non mori ma come la sopegna un marone ah ricordiamo che con l1 paro c'è una parata leggera è una parata leggera sì perché non mi pare faccio più macchina ma lo faccio più e corre ecco va bene beh c'è morto ma è l'opera sta qui ci puoi tenere più di nemici sconfitti pensai che generale c'è un nemico sconfitto a primi triangoli ah sì qui bell'impasto diciamo salute e durata tu prendi tutto ripetiamo sempre tutto e inergo pacchetto medio diciamo inergo e durata sol solitichella e tutto quanto che ti cuore questi c'è niente questo niente morto in modo brutto e merce ovviamente a bocca aperta e questo è roba prossima ho capito ho visto prima ancora ad l'esploso tutto a me c'è oh che cazzo fa questo a me questo sta bene ti ti fa di godare no? eccolo sconacchia di tutti sconacchia di tutti bravi tutti oh questo proviamo tanto proprio ah pronto un po' un po' ci ha c'è bello hai давato troppo po' c'è di pizzi caramella con tutta l'energia non c'è borsa che è successo? la cicala dove ce l'ho io? guardi c'è quello niente che non c'è niente ma non penso ma non penso è tutta merma c'è il centro di estrazione c'è il centro di estrazione c'è qualcosa di qua tutto cadrava insomma non ho mai visto che ti sembra allora sono andato oggi in corso c'è nulla no? c'è nulla da prenderlo no chi è? muro di ferro ma che cazzo non è? mi dicevo scusa noi ci sono protetti da scudi che dovrei distruggere con attacchi corpo a corpo prima di poter infliggere danni a me ah pure non posso distruggere così ah no niente ah no niente per forse ha distruggere lo studio ah io l'ho distrutta mamma è diventato è diventato è diventato adesso la cc la cc è un nuovo pacchetto piccolo ma sembra una delle pillole sembra una medicina proprio non di gestire di panti biologici eh orca però io ho sbagliato chi è? ok ma perchè uno non viene a gonciare? vai da me armi ma quanto ha fatto questo? sparì no che da dietro non faccio scoppio io passaggio di livello 2 passaggio di livello 2 ok sconfinchi mi dice completa missioni per regolare xp a ogni passaggio di livello potrai incrementare di 10 uguali 3 attributi diventerai un punto trigione per sbloccare tecniche nel menu wong fu e benefici per accedere ai menu premi la tasta opzioni ok ah si vede proprio fatto tipo a fumetto che lui punta c'è da questo? facendo quello piccolo la sola pichella e poi ho preso qualcos'altro in team mio guardate vedo un attimo questo sistema di presenziamento ma è matta vedo altra troia la madonna e questo e questo si è un primo pez mi piace mi piace mi piace mi piace mi piace i feriti vengono salvati nel menu completi faccio le gambe puoi ordinare gli oggetti a tua disposizione in base alle loro caratteristiche le loro caratteristiche le loro oggetti smantellano per ottenere le risorse ok i pantaloni per il momento io sono i pantaloni si ma ce l'avevo già i pantaloni ah c'è il fatto del muso c'è la spalla sinistra la spalla destra c'è il tatto della schiena c'è la testa ma mi... 3,95 sono i materiali per la mano cos'è che c'è? per la doppia arma ok inventario componente a distanza ecco qua tubo calcio e... cioè si può mettere... andiamo a uscire ma lo posso mettere su un'arma? il tubo calcio e poi c'è tutta questa roba qua insomma che sono le... quelle mie che essa roba? mh wow si ho capito i completi cinturoni non più sono ah si ma i completi cavolo ah l'automa su questo allora lui fa già torcia ok aspetta posso... l'automa ti accompagna fin la guanda di un cucciolo è una potente tecnologia di comunicazione del mondo... mondo cefu o mondo chefu e... e come la maggior parte degli elettrorattani possiede delle funzionalità avanzate c'è l'invenzione creativa c'è l'aliante la torretta e l'incremento oh da pure l'aspetto posso cambiare a questo ah ora quando sei di livello puoi migliorare un attributo a tua scelta di 10 scelgli dalla lista l'attributo che desideri migliorare e... non lo so allora la vitalità e di corazza per il momento sono a posto la forza sono a posto intelligenza c'è il baratto che è il carisma e la fortuna cos'è che ho basso? io potenziali l'incredigenza forse? lo potenziali la fortuna così veramente ma io potrei non lo so ha potenziali un bel saldo di qualità eh bene punti ok i punti d'organizzazione possono essere ottenuti se non da livello utilizzati per ottenere nuovi attacchi speciali benefici e è ora di sbloccare il tuo primo attacco speciale allora io adesso il combattimento a distanza ah il Bung Fu si basa su due colonne portanti le atti materie di base e le tecniche devono attreperarli che puoi sbloccare esprimendo i punti di potenziamento che ottieni quando fai il livello vediamo un attimo questa cosa qua armi da fuoco fucili automatici ambidestrismo armi da fuoco fucili fucili a polpa un fucili automatici per un momento smuocco da tutto mmm sto pezzo che ho tutto a costruire turboraffica io so tutte cose che sicuramente non userò mai qua lanza mille da fu si e invece il combattimento senza armi zampa ci sono tutte cose che praticamente io scherzo anche se io scherzavo solo quadrate e basse non facevo abilità di che tipo vabbè sblocchiamo questa se lo sbloccare qualcuna sblocco uno che magari posso fare quadrate quadrate triangolo casomai ok faccio vedere questo punto ambidestrismo col tuo corpo doppia presa agente ahhh con le prese vabbè comunque non ha più nulla ottieni altri punti potenziamento e investi in benefici e attacchi speciali nel meno 2 benefici ok ok questo si prepara già benefici 10 comando furia stimola 2 azione 3 aumenta il meno quando l'assoluta scende sotto questo servirà a 3 al 10 al 10 10 c'è shock e di credito al teatro che bisogna mettere il 10% livello 15 grazie generale colpo di fortuna ma lì a cavalcomonia un bel bacco di roba devo dire il mio corso la mappa ma perché dovevi piacere un videotipo eh esamina la porta da qua sono uscito eh sono arrivato da di cuoio allora sono usciti i nemici c'è il doppio salto ho visto prima non mi ricordo raccogli l'emergenza del mondo che fu una vera rarità non ti riporto rarita comuni raccogli scommetto che lo posso mettere al posto per il coltello che io un'attrezzo per le porte insomma una cosa come si faceva qui ma questo qua e come ti faccio a mettere c'è l'oggettivo non so ci scommetto di quello di un sangue per la porta escivamo stanzo abbi la porta quel tubo sembra fragile occasione ideale per usare il pinzartiglio ecco ogni cosa che serve a quadrato tra poco potrete attuare uno dei tuoi attacchi speciali quando l'attacco speciale potendo mantenere indietro nell'angolo in basso a destra dello schermo per il comando indicato per scatenare l'attacco speciale zappa indicibile ah è vero non è vero è il momento di trovare una via d'uscita dico davvero è un'attacco ok allora oh cazzo vabbè vabbè che cazzo è quella roba è un piante carnivore immagino no i morc utilizzano i propri multi organi per ottenere vori di biomasse che perdono se sottoposti a stress questi modi modificano i filamenti codificanti come se di quattro a un gioco se lo attivano non ce l'ha ma che ha fatto i miei rigoli e che cazzo il culo non so cosa sia e non mi interessa se non ce l'ho aiuto ma è questa per morire e una è andata ho buttato via in botte di munizioni mi viene male un po' più fermissimo se che le munizioni sono po' più aspetta vediamo una cosa inventario no si rallenta e basta non diventa che il tempo non si ferma quando scelgo vedi rallenta di poco poco ma non di tantissimo morto è un burro adesso ho detto un bioblob puoi utilizzare questi punti per sbloccare mutazioni per sbloccare mutazioni la cosa di bioblob è sconfiggendo i morti e trovando i contenitori in giro per il mondo puoi usare i bioblob per sbloccare i batteri speciali in qualsiasi momento per farlo vai nella sezione mutazioni dal minimo ma lo posso fare adesso o c'è qualcosa da fare? ok mutazioni eccolo qua mutazioni per aumentare le vetture di esistenza e sbloccare i pateri psionici e mutazioni biogenetiche mutazioni qua biogenetiche cos'è? i garafauci ma il pc l'unico colpite invece infetta da 3 grammi proprio alle altri automaticamente si fanno vivere via e via un danno il máquina ha fatto il poco quella di… di bere, la malattia, ti ho ripremuto il comando, ho speciato il fungo, te l'ho attivato, la c'è il comando, ok, si, qua c'è un profilo da fare con salta sui denti, ciuffi radioattivi, troppo di dizionici, ah, fa il fuoco, telescatto, ah, capito, e o sennò potenza di esistenza, e ci potrei, ci potrei pensare a potenziare qualcosina, tipo 1, e ciò fai questo, poi facciamo freddo, e malattiazioni, si, tanto, e poi 10, 10, 10, arriva al 100%, se è apposto, c'è magari poi quei nemici lì non dovrebbero più farti, allora, ma questo qua è un oggetto di scena, senza, sì perché non gli faccio nulla, ok, se ne va giù, aspetta per me, vedi se ci sono gli oggetti più, c'è nulla, no, sono più losetti quei cosi, e no, non mi sa di lanciare la mia, no, non ho visto male io, vabbè andiamo avanti, ok, 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 c'era una cassa, ma perchè ha saltato poco, mi ha fatto il salto piccolo, salito, niente, ma c'è una fassa di là, voglio vedere che cassa, come se non mi dici che mi fa volare, come penso, ok, 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 no, giustamente qui, ok, salito, no, interagisce, c'è dentro un picchiaccio, po' pazza, po' pazza, po' la po' pazza, basta, su salva salute piccolo, è lì a disposizione, che è lì a disposizione, ma quello che cambio di proteggimento, c'è, se io voglio cambiare, scusa, ho un personaggio, devo, attrezzatura, allora, mi faccia cambiare l'inventario, eh, un po' istinto con gli attrezzi, no, guarda qua qua, eccolo qua, certo è l'inventario, e se no c'è il 403, il 475, io la richiesto a 5, non lo posso che fare, mi necessita un attacco, mhm, mhm, classico di peso, luce, accessori 1, io non so come si montano, ma, niente, niente, quindi doveva arrivare a 5, la dire, c'è, da me la capito, ho visto nulla, ma, così per credere giunto, si trova l'antigasse, ok, ne avete qui, ando giù, l'esame nel cartello informativo, vediamo un po' ma cosa c'è, c'è nulla, si, cazzo stanno messo in palau, con il banco chimico cos'è, riesci? Per sfuggire alla catastrofe imminente, la Toxanol costruì immense imbarcazioni, chiamate delle arche, era forse già troppo tardi? Dallo studio dei registri di volo recuperati sull'unica arca rimasta, sappiamo che le altre partirono verso l'infinito e oltre, i nostri precursori, a quanto pare, non rinunciarono mai a trovare una nuova casa per se stessi e i propri simili. Allora, qui c'è una, una cassetta, c'è un, come, ecco, vediamo c'è una cosa che c'è scritta, ah, il troppo è un pick-up, ce ne sono parecchice per il modo di gioco, alcuni avranno nuove strade, altri avranno i compi in stiladio tipo, ah, devo collegare i due cose, mi sa, per chiamare una sensazione del uso, ok, successivo, per usare il nodo premi L1 e R1, il nodo di notazione è più alto, ah, il nodo di notazione è più altra disposizione, più altra pubblicità, più mosse avrò a disposizione, per risolvere, un pick-up di rivolta per ciascun nodo fino a trovare la posizione corretta, prima una mossa di più altra potrebbe avere delle conseguenze, eccola, scusi eh, così? ti restano poche mosse, dovrei far telebastare, ah, ho sbagliato io eh, non ce la faccio, fammelo bastare, eh, cazzo, perché ne l'avevo visto, allora, questo praticamente va bene bianco, ok, verde, no, è verde, ok, pensiamo che dovessi collegare i verdi, invece no. Esistono poche testimonianze della catena di eventi che in quei tempi remoti portò alla grande apocalisse, ma una cosa è certa, il mondo non aveva idea di quanto profondamente sarebbe stato colpito dalle pratiche sconsiderate della Toxanal Corporation. L'estrazione di terre rare e gli impianti nucleari produssero tonnellate di scorie che la Toxanal, dimostrando una notevole miopia, interrò in immense discariche fino a esaurire lo spazio di esposizione. Fu allora che fecero l'errore più grosso. Cominciarono infatti a scaricare le scorie tossiche nella spuma, a poca distanza dalla costa, convinti che si sarebbero disgregate col tempo. Avevano ragione, ma non erano pronti ad affrontare ciò che avevano scatenato. Le radiazioni interferirono con il codice genetico della fauna sottomarina, causando bizzarre mutazioni nelle generazioni successive. L'impatto a livello di ecosistema e biodiversità fu inimmaginabile. La natura contrattaccò e il mondo intero andò in pezzi. Niente sarebbe più stato lo stesso e quel che restava divenne la nostra casa. Inconfondibile pen pompa del set a metà. Non viene da dietro quella porta. Ma sto cazzo che ci vado? Un cartello di avvertimento. Quella scatola rischia di scioglierti il cervello a quanto pare. E quindi che devo fare? Dovrai armeggiare un po' per cortocircuitare la porta. Bianco? Poi? Qui sto quasi collegato. Sì, se su è così. Così? Sì. E il bianco? Ecco fatto. Ecco fatto. Ecco fatto, bravo. Ok. Oh. E' stato un contatto perfetto. Per seguire un nemico. Un nemico sull'inizio non ha riconosciuto una corona di stelio sulla testa. Per scagliare un nemico... Per scagliare un nemico struttito in aria col piccolo di nuovo tremendo L1. Sono troppi per il povero due ruote. Va ad aiutarlo. Ma... Ma chi ne sta bene? Ma chi ne sta bene? Ma... Oh cazzo. Ma ma... ma ma... E' stato un po' disciottato qui. Che cazzo ha sganciato quello? Va a dire come combattere perché... Ma manco i pugni si sentono. C'è un altro. No? Ah sì, a fuori. Non resterà in piedi a lungo. E quello era l'ultimo. Parla con due ruote prima che arrivino i rinforzi. Aspetta, che intanto mi cerco... Beh, fa tutto medio. Che roba lì. Sto più a un botto io, no? Per un po' tempo. Ok. Ma c'è qualcos'altro? Ma due ruote è venuto di qua. Nuovo amico, vecchio amico. No, missione municipale. Ti ringrazia per aver preso le sue difese contro quegli sciacalli. La sua voce ti è familiare. Anche se non sapresti dire di preciso perché. Si presenta come obsoleto. Sa che il suo tempo volge al termine. Ma non è ancora pronto ad andarsene. Non è stupito dal fatto che tu non lo riconosca. Allora eri poco più che un cucciolo. La notte in cui cambiò tutto. Giravano voci di un ronin con un occhio solo che viveva oltre il grande muro. Gli fa piacere sapere che è vero. È una triste antica leggenda. Quella del cucciolo monocolo cresciuto in solitudine. Il cucciolo poteva essere chiunque. Ma a scampare la morte. Aveva lasciato un segno. Una cicatrice. Per ricordare il passato. Non ha dubbi che sia tu quel cucciolo. E che quello che Lupalupin ha fatto al tuo villaggio. Alla tua muma e al tuo papo. È stato l'inizio della fine. Dice che ti ci è voluto del tempo a riportare il passato nel presente e trovare la strada di casa. Ma è felice che tu l'abbia fatto. L'unità andò in pezzi subito dopo l'attacco. I discepoli della tua muma si divisero in tribù per resistere alla devastazione che aveva colpito la terra. Non fosse stato per l'albero della vita nessuno sarebbe sopravvissuto. Spera che tu ricordi almeno l'albero. Per impostare un po' di impostazione predefinita. I dialoghi passano da una fase dell'NPCI alla successiva. Se voi controlla manualmente l'avanzamento del dialogo ci vedete impostazione accessibilità. Tanto tempo fa nel Mundo Kefu. È un cucciolo mio. Bei tempi si chiama questo. Chiede se la scarpinata dal villaggio è stata stancante. Si domanda se la tua muma sa dove sei. È convinto di sì perché sei un cucciolotto per bene. Dimenticare non è prerogativa dei vecchi. Capisce perché hai fatto la fatica di arrivare fin qui per trovare i patatoidi. Gli incredibili patatoidi o nono. Legati inestricabilmente a questo alberello sono la sua fonte di energia vitale. Non hai tutti i torti. D'altronde sono pieni di energia proprio come le patate. Un'ottima fonte di chi. I nono amano annidarsi in mezzo alla brillerba. Ti suggerisce di agitarla per spingerli a uscire allo scoperto. Guarda che sono sti cosi. Questi qua. Ah sti quasi qua. Sti fiorellini. Asi qua. Molto. Ne hai trovato uno. È roba di cui andare fieri. Non tutti sono così fortunati. L'energia chi dei nono è proprio quello che serve al pensai per completare il proprio ciclo vitale e diventare un albero della vita. L'alberello che hai visto quando ci siamo incontrati col tempo diventerà un albero della vita e restituirà la propria energia alla natura. Sarà il cuore pulsante di questa terra. In futuro avrai bisogno dell'aiuto dell'albero e per farlo crescere alto e forte servirà una scarica di chi, come quelle sprigionate dai nono quando diventano tutt'uno con l'albero stesso. Per catturare i nono ti servirà una rete. Dice che puoi usare la sua ma ti chiede di fare molta attenzione. I nono sono creature sensibili, un'incarnazione del chi, l'energia primordiale. Sì. E divan la terne, questa la mischiusa. Un'incarnazione del corso dal giovane. Gli zoop! Oh. Oh.